buongiorno amici buongiorno amiche ecco qua un nuovo adattatore android auto wireless nello specifico questo è il modello u2a l9 che è da poco sbarcato su amazon e noi lo proviamo per per voi le le istruzioni sono sono ben fatte sono anche in italiano spiegano come fare l'aggiornamento firmware che io in effetti ho trovato e fatto allora vediamo un po questa è la confezione c'è un adattatore usb c usb normale se magari voi avete difficoltà a inserirlo o avete una solamente delle porte usb c nella vostra auto dovete utilizzare questo adattatore io invece non ne ho bisogno uso la mia classica usb vedete è molto piccolo carino dopo lo estraggo ve lo faccio vedere da vicino ora sta funzionando infatti ecco io sono collegato ad android auto wireless e funziona come se fossi collegato via cavo funziona perfettamente tutto funziona perfettamente come se fosse collegato via cavo lui è il classico dongle che funziona se nella vostra auto avete android auto via cavo con questo dongle diventerà android auto via wireless credo che sia il migliore attualmente sul mercato io li ho provati quasi tutti e perché la linea non cade mai perché ci sono gli aggiornamenti firmware perché è molto piccolo e quindi a mio parere non ha nessun difetto l'unico difetto potrebbe essere se voi avete una porta usb posta in un in qualche location difficoltosa e non riuscito a inserirlo in quel caso dovete usare una prolunga o uno snodo ma nel mio caso per esempio è perfetto molto carino molto piccolo adesso lo ripeto lo estraggo e ve lo faccio ve lo faccio vedere però ecco vi ho anticipato che secondo me è il migliore sul mercato si trova su amazon a circa una cinquantina di euro non l'ho visto su aliexpress non l'ho visto da nessun'altra parte quindi dovete comprarlo su su amazon adesso estraggo lo estraggo dal dal suo alloggio e vediamo cosa succede no anzi non succede niente succede che si scollega eccolo qua vedete è piccolino è lucido ma non trattiene particolarmente le le ritate vediamo se riesco a farvi leggere le specifiche eccole qua ora vi faccio vedere una cosa curiosa che è la prima volta che mi succede lui adesso non è inserito quindi non si collegherà ad android auto wireless ma guardate mi dice appunto che lo riconosce come se fosse stato collegato via cavo un samsung e questo è normale la cosa strana è che la prima volta che io ho collegato il dongle alla porta usb anziché rilevarmi un dispositivo android auto e accettare l'associazione la prima volta mi ha trovato un dispositivo carplay io stavo quasi pensando che mi avessero mandato il dongle sbagliato che mi avessero mandato un dongle carplay invece era il dongle giusto un dongle android auto quindi la prima volta che lo inserite almeno nella mia macchina mi dice che è stato che è stato trovato un dispositivo carplay in realtà poi quando farete l'accoppiamento via bluetooth si collegherà il vostro smartphone android e funzionerà sempre perfettamente come se fosse collegato android auto via cavo una una particolarità non so a cosa serva questa 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 caratteristica ma poco importa perché funziona funziona bene secondo me sono i 50 euro ben spesi attualmente sul sul mercato per i dongle di lui avevo provato anche il modello precedente che sostanzialmente funzionava funzionava bene anche anziché avere questo effetto carbonio era nero però era lungo quasi il doppio questo è lungo la la metà e forse è leggermente più veloce ma veramente parliamo di differenze minime quindi se voi trovate il modello precedente che è un po più allungato ad un prezzo basso potete prendere tranquillamente questo a parità di prezzo questo è più piccolo e forse anche un pochino più veloce ciao a tutti restate connessi perché ci vediamo presto con dei nuovi dongle ciao